Ti passo 5 a 5, cambio. Roger, 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 Italia 3, Giappone, Venezia, Santiago, con 200 micro watt, uguale come io, perfetto, arrivi perfetto, 5 a 5, 9 a 4, qui in Venezia, 47 giga, cambio. 5 a 5, 5 a 5, 5 a 5, 5 a 5, non è una volta, è perfetto, e ho portato anche Nico. Ok, perfetto, grazie per 5 a 5, Nico, vai Nico. Perfetto, perfetto, Adam, fantastica, finalmente ce l'abbiamo fatta. Arrivi bene, arrivi bene, sono prastitile, sono prastitile, anche se ti è posto, non è possibile. Ciao, Adam, grazie, finita, sentiamo la tua tele, alto, grazie. Va bene, Nico, va bene, Nico, c'è un po' di QSB, ti porto QSB dopo domani a Marzaglia, ti porto QSB dopo domani a Marzaglia, tutti e tre, cambio. Perfetto, ragia, 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 ciao da Papi, ciao, ciao. Ciao, ciao, saluti a tutta squadra, vada a due metri.